L'economia aziendale è strategica. Mediazione linguistica è bariegata. Medicina e chirurgia è fondamentale. Economia e finanza è stravolgente. Giurisprudenza è affascinante. Lettere è romantico. Comenaggianto in digitale è tromendente. Filuppo sostenibile, cambiamenti climatici e il futuro. Management delle organizzazioni turistiche è sostenibile. È giovanile. Filosofia è inafferrabile. Infermieristica è tostissima. Scienze ambientali è studente. Dirizio e ammanaggimento dello sport è innovativa. Biotecnologia è stimolante. Scienze motorie è multidisciplinare. Educazione sociale è emotiva. Ottica e optometria è lungimirante. Lingua e letteratura è straniere e inclusivo. Ingegneria dell'informazione è intigante. Scienze della formazione primaria è colorante. Viticoltura e tecnologia è frizzante. Ingegneria industriale è accattivante. Matematica è rivelativa. Fisica è figa. Sociologia è qualitario. Scienze della comunicazione è futuristico. Biologia è vita. Psicologia è dinamica. Ingegneria civile è pratica. Scienze politiche è smart. Ingegneria per l'industria è sostenibile e sostenibile. Servizio sociale è empatico. Ingegneria biomedica è affascinante e complessa. Vini culturali è ricco. Il Dams è spettacolare. L'Università del Salento è illuminante come la sua terra. Per il Dams. Grazie a tutti.